attraverso androni semicircolari che portavano alla villa. Ghost Hunters, cacciatori di fantasmi in azione alla barchessa di Villa Fini, a Limena. Un edificio storico costruito dalla famiglia Fini, veneziana, con origini di Cipro. Sono tanti i misteri legati alla barchessa, che più recentemente è stata ricovero per i feriti di guerra e successivamente scuola. I Ghost Hunters, cacciatori di fantasmi, con le loro strumentazioni speciali hanno cercato di catturare presenze, voci, ombre che dicono possano provenire dall'aldilà, anche all'oratorio della Beata Vergine. Il limite è molto sottile tra suggestione e realtà, la passione e la voglia di cercare di capire se siano presenti i fantasmi all'interno della barchessa. La scienza, contraria a questo tipo di pratiche. Il ritratto che c'è sul muro vicino alle scope di Sagina. I Ghost Hunters di Padova sono pronti per nuove avventure. Sul loro sito ufficiale, tutte le novità di un gruppo che fa discutere e appassiona. Il ritratto che c'è sul muro vicino all'interno della barchessa.